Fermi precauzionalmente nelle regioni più a rischio anche i campionati di calcio Serie D. Blocco fino al primo marzo anche per la pallavolo in tutti i campionati di ogni livello, nazionali, regionali, territoriali. Partita a porte chiuse invece per l'Occhi e Cortina. L'emergenza coronavirus sta invadendo vari ambiti, dalla sanità in primis, l'economia, ma anche lo sport e la cultura. Anche in provincia il cinema sono chiusi, così come sono sospesi i concerti, fiere e sagre, ma anche le rappresentazioni teatrali. Ed è proprio causa dell'emergenza epidemiologica in corso che anche il Circolo Cultura e Stampa Bellunese ha posticipato al primo aprile lo spettacolo Bella Figura della 42esima stagione di prosa, inizialmente in programma il primo marzo. Ci ha preso in contropiede, di sicuro.